E' un'emozione forte perché l'anno scorso è stato fatto un miracolo, quindi non è facile dimenticare, nonostante sia un derby, io adesso penso a difendere con lui del Pescara perché sono un giocatore del Pescara e sono contento di ciò, però l'emozione era tanta perché l'anno scorso abbiamo fatto davvero un miracolo sportivo e quindi sono stato vendolini qua però speravo di vincere. Ecco, secondo te che partita è stata quella affrontata dal Pescara? Poteva fare magari qualcosina in più soprattutto nel secondo tempo? Vabbè sicuramente si può fare sempre meglio, come nel calcio come nella vita, le cose magari si possono sempre migliorare, però è andata così, alcuni episodi sono stati magari a sfavore come secondo me il primo rigore, però pensiamo già alla prossima che ormai con il cerco e mai non si vanno da nessuna parte, quindi pensiamo alla prossima partita. Ecco, che match sarà il prossimo incontro? Sicuramente durissimo perché anche il Perugia ha lotto per i play-off, cerchiamo di mantenere la nostra posizione e quindi dobbiamo cercare di vincere a tutti i corsi, soprattutto in casa. Perfetto. Grazie.